Siamo con il sindaco Sandro Sborcia che è questa mattina alle 5 sul posto, se ci può dire com'è la situazione e vedere come potete mettere in sicurezza le località. Al momento che l'incendio sembrerebbe domato sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile con l'ausilio sia di un elicottero che di un Canadair, l'incendio è di vaste proporzioni e si è propagato lungo un'area molto estesa che va da Morro e interessa anche le zone di Muccia e Serravalle. Fortunatamente è stato grazie all'intervento delle squadre antincendio, è stato domato, sembrerebbe che al momento la situazione sia sotto controllo e quindi ci auguriamo che fatti di questo genere non accadano più. Però è veramente triste vedere questa bellissima parte di area boschiva del nostro territorio ridotta in cenere, quindi speriamo nella sensibilità delle persone, nel comportamento serio e rispettoso della natura da parte di tutti quanti i cittadini.